E' stato pubblicato il bando per l'attivazione di nuovi collegamenti aerei da e verso gli aeroporti della Calabria. L'amministrazione regionale destina complessivamente circa 12 milioni di euro a valere sui fondi PAC per il miglioramento della connettività tra la Calabria e le altre regioni d'Europa e per il sostegno dello sviluppo del sistema turistico ricettivo. La concessione dei contributi a titolo di sonvenzione diretta alle compagnie aeree informa a un comunicato stampa della Giunta e finalizzata infatti all'attivazione di nuovi servizi aerei di linea per passeggeri tra gli aeroporti situati nel territorio e altri aeroporti situati nello spazio aereo comune europeo. Le istanze di partecipazione possono essere inoltrate entro e non oltre il 25 gennaio 2018. La pubblicazione dell'avviso, che prevede un'importante dotazione finanziaria, ha dichiarato Oliverio, segna un posto significativo nella direzione del rilancio del trasporto aereo regionale. Ci siamo impegnati per sostenere il potenziamento del sistema aeroportuale calabrese, rafforzando tutti gli scali, perché riteniamo fondamentale per realizzare qualsiasi percorso di sviluppo interrompere la perifericità del territorio. Attraverso l'attivazione di nuovi collegamenti aerei, definiti a seguito di un intenso confronto con diversi attori regionali e con il gestore unico del sistema aeroportuale, sarà possibile non solo garantire il diritto alla mobilità dei cittadini calabresi, ma dare anche alla regione concrete possibilità di esprimere tutto il proprio potenziale.